Credo che abbiamo noi dei valori per primo, quello di rispettare i tifosi, ma anche quello di andare avanti. L'AEC, l'Associazione Italiana Calciatori, ha imposto a tutti i calciatori di avere 8 giorni di stop. Questa cosa non è una cosa determinata da noi, i nostri tesserati hanno rifiutato questa cosa, quindi sono tutti allenarsi. Quindi non è una considerazione di dargli prima il via libero. È proprio una considerazione del fatto che in un momento come questo, dove ci sono 5 giocatori con problemi muscolari, giocare alle 20 e 30 è stato solo quello il nostro pensiero. Con il freddo, ieri sera c'era meno 2 gradi, con il freddo e tutto sicuramente qualche giocatore può risentire di questa considerazione. E quello che era invece il nostro obiettivo, che il 6 e il mister l'avevano tutti a disposizione per provare a far meglio.